ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo il primo filmato mostra queste ragazzine mentre fanno un karaoke mentre cantano e si divertono degli strani rumori catturano la loro attenzione rumori provenienti da una stanza una delle due bambine decide di andare a controllare filmando quella strana situazione con la telecamera del telefono ciò che viene ripreso è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento scrisate scrisate ma Grazie a tutti. 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 E anche oggi siamo arrivati al termine ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.